Io vengo dalla Virginia, negli Stati Uniti. Cinque anni fa mi sono trasferita in Italia. Direi che il ciclismo ha cambiato la mia vita parecchio. Ci sono tanti percorsi proprio dentro la valle, magari dove perdi i scorci del lago per un po' e poi si riprendono. Ci sono paesaggi da film e anche tanti giardini bellissimi. Per chi piace andare in bici come me, è il posto più bello del mondo. Ogni tanto i turisti mi chiedono dov'è il posto migliore per andare in bici sul lago di Como. La mia risposta è sempre la stessa, ovunque. Mi chiamo Casey e sono una ciclista.